Music Show è presentato da Pink Pleasure, linea borsa e fumetto, by Incipiens SRL I amici di Music Show sono con uno degli organizzatori, davvero una grande notte, sono con il DJ Sansone, DJ storico 80 e 90 The Original Party, il gruppo Quelli Che, è sempre una garanzia, Andrea devo farvi i complimenti perché è davvero una grande organizzazione questa notte discoteca Showroom, 90 Padovana, riviviamo gli anni 80 e 90 Eh sì, questa è una bella notte, abbiamo organizzato e da un po' di tempo stiamo organizzando questa festa ci hanno messo il cuore come gruppo, l'anima e come tutte le feste che noi facciamo 80 e 90 The Original sono feste che vanno alla grande e ringrazio tutti perché sono tantissime le persone che sono venute questa sera e ringrazio anche voi soprattutto DJ Fabrice, buonasera! Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti! Vedo che sono caldi, li stai riscaldando sempre di più Sì sì, cerchiamo, cerchiamo, è la musica che non tramonterà mai quindi noi cerchiamo di riproporla sempre, sempre e esclusivamente con vinile The Original Party, eccola qui la prova tangibile Certo, certo, se potete vedere anche i piatti che girano siamo genuini, genuini come si dice, come il latte si può dire E sono con altri due componenti del gruppo Quelli che sono con Mauro, ciao Mauro Ciao, 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 eccomi qua E poi sono con l'unica donna del gruppo, con Ketty, ciao Ketty Ciao Allora, raccontiamo, ma com'è nato questo gruppo Quelli che? Beh, direi con la voglia comune di fare delle feste, di divertirsi e comunque di creare queste situazioni Mauro, devo dirti che noi girando l'Italia poche volte ci capita di trovare insomma davvero una situazione del genere dove la musica e l'atmosfera ci riportano agli anni passati dove la musica faceva davvero la padrona queste grandi notte Sì, e soprattutto io ho iniziato da poco questa avventura e la cosa che ho cercato di dare come giusto consiglio anche ai miei soci è quello di dare il sorriso, vedere il sorriso delle persone che entrano e far sì che le persone che escano ricevano e vediamo lo stesso sorriso Sala anni 80, stiamo rivivendo i grandi successi del passato, sono con Stefano Bibo e Giuliano Rame Stefano, una grande notte organizzata dal gruppo Quelli che è un grande successo Sì, è un grandissimo successo fondamentalmente basato sulla musica doc, la musica anni 80, la migliore musica degli anni 80 Con le selezioni, quelle più semplici, quelle più... che la gente amano ballare, basta, nulla di che Quindi questa sera Stefano Bibo e c'è anche lui, Giuliano Rame, un grande DJ Adesso solo io che lavoro qua, lo stanno ormai, sono il pilastro vecchio, sai, ruggine, anzi ramato che te, no, sto scherzando Stavo lavorando con i dischi come si faceva una volta, è il gusto del nostro 80-90 original, è proprio questo, di lavorare con i vinili Giuliano Rame, un saluto agli amici di Music & Show Music & Show, number one, mi raccomando, seguiti ragazzi che sono bravissimi E poi anche da lui, Stefano Bibo, un saluto a tutti i nostri amici Un salutone a tutti gli amici di Music & Show E conosciamo infine altri due componenti del gruppo Quelli Che Fabio, buonasera Ciao, buonasera E poi sono anche con il DJ Michi Antonello, ciao Ciao, ciao a tutti Allora, tra l'altro sei reduce da una grande performance Questa sera una pista calda, davvero per numeri uno qui allo showroom Esatto, esatto, sì, la gente ha risposto molto bene È una grande serata, un bel evento veramente Questo è il fil rouge che poi lega tutto Ma è quello che noi vogliamo regalare, bella musica, divertimento, bella gente soprattutto Quello è l'importante, che sia bella gente che si diverta Agli amici di Music & Show Mauro, Andrea, Antonello, Fabio, Chetti e Fabrizio Il gruppo Quelli Che, grande organizzazione L'augurio di rivederci presto Noi vi facciamo davvero un grande bocca al lupo I complimenti per questa magica notte 80 e 90 di Original Party Grazie, grazie Grazie a voi ragazzi Grazie, alla prossima, ciao Sempre di più gente Alla prossima Ciao ragazzi, alla prossima Ciao Music Show è presentato da Pink Pleasure Linea Borsa e Fumetto By Incipiens SRL